Ciao ragazzi, benvenuti su MarioZ Channel. Oggi vi faccio vedere un nuovo acquisto in collezione, vinto ad un'asta su Yahoo Auction qui in Giappone Procediamo! はい! ではでは こちらになります! はい! Tiger Maskでございます! こちらね! Tiger Mask 2 はい! Satoru Sayamaですね Sayama Satoruのバージョンですね こちらは かっこいいですね! はい! はい! では カットマスクなので このご視聴ありがとうございました! それが ありがとう! そこに ばくりは Sovbyの Vintage 80 42 42 anni questo soft b e l'abbiamo vinto ad un'asta appunto qui in giappone ci è arrivato oggi e quindi adesso lo stiamo mostrando molto molto bello pur essendo un pezzo molto vecchio si può dire che abbastanza siamo in buone condizioni eccolo qua eccolo qua in tutto il suo splendore questo tiger mask uscire ma ne hanno gli anno san tattaco domone no mi oggi caete a rimas le corone hanno uscire in popino ma come siete massi dietro potete vedere al sedere qui abbiamo il marchio della popi molto piccolo non so se riuscite a vederlo poi c'è il cognome del bambino a cui apparteneva jano questo insomma è il modellino in soft vinyl soft vinyl eccolo qua kakoyitesnè condition monè hanno i cangini quindi qui 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 Asciura miru to,こちらはね Japan 書iteありますね Japan こんな感じですね Hai Ma, togodo e ne, kio ha Kono vintage ne, Sofbi Kore ne, ano, 14.5cm ぐらいですね Siamo sui 14cm e mezzo Più o meno, come altezza Questo Questa figura in soft vinyl E niente, adesso Fa parte della nostra Collezione Mettiamo qui Così Eccolo qua Kona kaji desu Ah, ma se kako nande ne, kochita no Dana o Mishetai to omoy mas E kochita ne E Ultraman nexus Sofbi Big size Sofbi E E Bandai Vintage Sofbi E Lio E E Tato's E Ninja Tato's E E Samurai 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 Camerader 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 E Camerader SL E Namego Tato's And Camerader Carlo Person version Sc polLE Sugare questo è anche l'unico è stato con il nostro con la nostra questa è la parte questa è la parte della scuola ora è la parte del video questo è tutto viaggio questo è tutto questo è tutto questo è tutto ragazzi allora vi ho fatto vedere un po come su questa menzola qui vari soft di di ultraman mostri i kaiju di ultraman che ho in collezione con questa ci saldiamo se vi è piaciuto il video non esitate a cliccare sul pollice in su che ci fa piacere commentate condividete iscrivetevi niente ci vediamo al prossimo video rimanete sempre sul canale per nuove emozioni e ragazzi ciao grazie alla prossima e minna san sai come te coscio arrivato da ma sta mario z channelli sta vai vai sayonara ciao いいねグッドボタン押してくださいぜひ チャンネル登録ね忘れないでくださいばいばいばい